I lavori di riqualificazione per il quartiere di Scampia stanno per ripartire. 50 gli alloggi temporanei previsti che sorgeranno sulle macerie dell'ex veila A, ultima a essere stata battuta in ordine temporale e prima dell'8M a essere demolita. Queste abitazioni ospiteranno, seppur in via passeggera, le famiglie delle vele C e D, le cui operazioni di demolizione dovrebbero avere inizio, secondo le prime stime, entro l'autunno 2023. A seguire la costruzione di 350 nuove case, tutte definitive. Un'operazione questa che vede il comune di Napoli impegnato con un investimento di altri 70 milioni di euro, in aggiunta ai quasi 57 già a disposizione del municipio. Fondi che arrivano anche tramite un finanziamento nell'ambito della misura per i piani urbani integrati del PNRR. Il finanziamento insieme al budget degli altri fondi già a disposizione per il progetto ci dà la possibilità di completare l'intero l'8M, ha spiegato l'assessore comunale all'urbanistica Laura Lieto. Trattandosi di insediamenti che hanno anche un valore simbolico evidente per la città e poi collocandosi in aree di costruzione lontane dal centro, l'amministrazione vuole fare un investimento in termini di qualità dell'architettura, ha poi sottolineato l'assessore. L'impegno del comune è grande nei confronti della gestione del progetto di riqualifica di Scampia, ma problemi e difficoltà non mancano. Le tempistiche legate alla pubblicazione e all'assegnazione dei bandi dovrebbero prendere il loro tempo e in questo senso l'assessore Lieto ha aggiunto Contiamo di avere il progetto definitivo per l'intero l'8M entro un anno. Siamo davanti a un piano che richiede una grandissima capacità di coordinamento tecnico, qualcosa di enorme su un insediamento dove vivono persone. Bisogna armonizzare con grande attenzione i tempi.